Salve a tutti e bentornati su Soluzioni PC. Oggi vi mostreremo come configurare e utilizzare Google Authenticator, un'app indispensabile per aumentare la sicurezza dei tuoi account online. Google Authenticator è un'app gratuita che genera codici temporanei per la verifica in due passaggi. Vi ricordate i vecchi token che una volta si utilizzavano per le banche, quei piccoli affarini con il display e il piccolo pulsante? Ecco, quelli facevano la stessa cosa. Allo stesso modo, Google Authenticator aggiunge un ulteriore livello di sicurezza ai tuoi account, impedendo l'accesso non autorizzato anche se qualcuno conosce la password. Per iniziare bisogna scaricare l'app di Google Authenticator. Questa è disponibile sia sul Google Play Store per Android o l'App Store per iPhone. Una volta installata, apriamo l'app. Come prima cosa dobbiamo scegliere quale account desideriamo utilizzare su Google Authenticator. Una volta arrivati all'elenco, che sarà vuoto la prima volta, degli account da proteggere, fermiamoci un attimo perché dobbiamo andare sulla piattaforma che vogliamo implementare. Nel mio caso facciamo un esempio con Twitter o X. Per prima cosa accedo al mio account di X e cerco nelle impostazioni di sicurezza l'attivazione della verifica a due passaggi. Qui, secondo come sono scritte le impostazioni, dobbiamo cercare attivazione con Google Authenticator o con app di autenticazione. In tutti i casi, alla fine dovrete ritrovarvi un codice QR. Questo codice potrà essere scansionato con l'app Google Authenticator per associare l'account. Dall'app di Google Authenticator premiamo il più che è in basso a destra e selezioniamo scansiona con codice QR o, in alternativa, possiamo utilizzare anche un codice da inserire manualmente. Una volta scannerizzato il codice QR, l'app genererà automaticamente un codice temporaneo legato all'account che, nel caso di X, dovrete inserire per completare l'associazione. E questo era quanto per la configurazione di Google Authenticator. Adesso vediamo come utilizzarlo. Ogni volta che vorremmo accedere a X, dovremo aprire l'app di Google Authenticator e inserire il codice che ci verrà richiesto. Questi codici durano solo 30 secondi per ragioni di sicurezza. Quindi bisogna essere un po' celeri. E questo è quanto per l'utilizzo di Google Authenticator. Allora, veniamo alle domande frequenti. Allora, vi starete chiedendo se Google Authenticator si può utilizzare sia per gli account Google stessi che per altri account. Per tutti quegli account che prevedono una verifica in due passaggi tramite app di autenticazione. E vi starete chiedendo se io dovessi perdere l'accesso all'app di autenticazione che ho installato nel mio telefono. Quindi, se casualmente io dovessi cancellarla o dovessi perdere il mio telefono, come posso ad accedere ai miei account? Ecco, questo può essere un problema perché, a meno che non vi siate segnati i codici di backup, non potrete in nessun modo accedere ai vostri account. A me stesso è capitato di dover aspettare vari giorni dopo aver scritto all'assistenza per farmi rimuovere l'associazione a Google Authenticator perché avevo cancellato l'applicazione e mi ero dimenticato che avessi ancora attivo la mia registrazione su un sito, il mio accesso su un sito. Vi starete chiedendo come faccio se devo cambiare telefono, come porto i miei codici in un'altra app di Google Authenticator. C'è una funzione, premendo su le tre lineette in alto a sinistra, troviamo trasferisci i codici. Da qui potremo esportare i nostri codici in un'altra app tramite QR code. Ecco, queste sono tutte le domande che mi sono venute in mente, ma se ne avete altre su Google Authenticator potete scrivermi nei commenti e farmi sapere se avete avuto problemi o altre cose. Iscrivetevi al canale per altre soluzioni PC e vi pregherei di lasciare un like se possibile perché mi serve per far crescere questo canale. Ringrazio a tutti per avermi seguito e ci vediamo a un prossimo video. Ciao!